cerchiamo di agevolare i ricchi il più possibile beh adesso le sospensioni insomma non si imbarca più come prima dice verde lui che ne temo ma mi buttassi le gomme un attimino in temperatura si imbarca in maniera stradale la seconda il cambio è una rapportatura diversa infililo infililo è chiaro infililo 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 ma c'erò dall'interno è chiaro infililo 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 infililo